Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora oggi parliamo della moto Morini perché c'è una news molto interessante che ci parla del possibile arrivo di una nuova moto della casa italiana, quella che dovrebbe essere una nuova maxi enduro stradale, una nuova Xscape 1200, così l'ho definita nel titolo di questo video. Però già vi anticipo una cosa, di questa nuova moto conosciamo poco, ci sono giusto due o tre disegni CAD che ci mostrano la moto come dovrebbe essere fatta, però non sappiamo ovviamente il nome di questo modello nuovo e neanche conosciamo il motore esatto, quindi cilindrata e potenza. Perché quindi l'ho chiamata Xscape 1200? Perché come estetica dei disegni CAD la moto ricorda molto l'attuale Xscape 650, mentre il motore dovrebbe essere di grossa cilindrata o il motore 800 della CFMoto, c'è questa teoria, oppure, più plausibile magari, forse il motore della vecchia Granpasso 1200, che era un motore con una potenza di circa 120 CV. Io ho tagliato, diciamo, la testa al toro e l'ho definita Xscape 1200, per far capire comunque che parliamo di una grossa Xscape. La moto sembra essere molto interessante, i disegni comunque sono arrivati online, sembrano essere, diciamo, veritieri, originali, non sembrano essere fake, quindi in teoria Motomorini starebbe effettivamente sviluppando questa moto, che però potrebbe arrivare chissà quando e forse prima verrà comunque presentata in Cina, come è stato per la Xscape 650 e anche per la nuova 6,5. Se vi ricordate, tempo fa, qualche mese o anno fa, vi ho parlato, insomma, dei disegni CAD della Xscape e poi effettivamente la moto è arrivata. Quindi la news di oggi dovrebbe essere abbastanza corretta. Qui di fianco vi lascio qualche immagine, ragazzi, questi qua sono i disegni di questa nuova maxi endurostradale della casa italiana. Cosa vediamo? Dunque, non vediamo tantissimo, non c'è comunque la livrea, però comunque sia, vediamo la forma delle plastiche e notiamo anche alcuni componenti. Come estetica, come plastiche, come forme, la moto ricorda molto l'attuale Xscape 650. Abbiamo dettagli interessanti come i cerchi a raggi che sembrano essere 19-17, esattamente come sulla Xscape 650 e esattamente anche come sulla vecchia Granpasso 1000 e 2. Poi notiamo la forcella a stai rovesciati, pinze all'attacco radiale all'anteriore, che probabilmente saranno della Brembo, e notiamo un cupolino che è bello dritto, un po' in stile Xscape 650 e un parafango invece anteriore che è basso. Queste, diciamo, sono le cose che più colpiscono, mentre la cosa interessante sicuramente è il motore. Dunque, il motore effettivamente sembrerebbe essere quello della vecchia Granpasso 1000 e 2, che è la moto che vedete qua in piccolo di fianco in questo momento, una moto rimasta in gamma motomorini fino al 2020, no? Quella moto, che era una maxi enduro stradale che andava a costare sulle 20.000 euro con il cerchi di 19-17, sfruttava un motore bicilindrico, cilindrata 1.200, con potenza 120 cavalli circa e coppia 104 Nm. rimasto come motore all'euro 4, no? Non più aggiornato all'euro 5, per questo che la Granpasso poi è sparita comunque dal listino della Moto Morini. Potrebbe quindi essere che Moto Morini riprenda quel motore della Granpasso, lo riveda per la omologazione Euro 5 o Euro 5 Plus, e diciamo lo vado ad inserire su questa nuova maxi enduro stradale, questa nuova maxi XK650. Però non è confermata questa notizia sul motore, potrebbe anche essere giusta un'altra teoria, ovvero quello che il motore sarebbe della CF moto, questo perché la XK650 e la 6.5 STR e SCR montano il motore della CF moto, che è il motore bicilindrico, cilindrata 6.50, con potenza 61 cavalli. Quindi Moto Morini invece che prendere il motore della vecchia Granpasso e rivederlo, invece che farsi un motore nuovo in casa, che comunque ha un certo costo, svilupparlo e tutto, potrebbe attingere al catalogo della CF moto, azienda cinese, e prendersi magari in prestito il motore della nuova 800 MT, che è la moto che vedete qua sotto, uscita recentemente, che monta il motore della vecchia KTM, il motore bicilindrico 790, utilizzato per esempio sulla 790 Duke, modello vecchio. Sull'800 MT questo motore sviluppa una potenza attorno ai 91 cavalli, potrebbe starci come cosa in ottica contenimento costi, e quindi di fatto alla fine uscirebbe anche una moto meno costosa per l'utente finale, meno costosa magari anche rispetto alla vecchia Granpasso, che andava sulle 20.000 euro. Quindi ci sono due teorie, o motore della CF moto 800 MT, quindi motore due cilindri 800 potenza a circa 91 cavalli, o motore della vecchia Granpasso 1200, cilindrata 1200 due cilindri con potenza a 120 cavalli. Non ci sono però al momento conferme in tal senso. Però in entrambi i casi comunque sono, insomma, sarebbe comunque una moto, secondo me, molto interessante, diventerebbe una Maxi Enduro stradale, che è un segmento che in Italia comunque vende benissimo, guardando ai dati di vendita. È un segmento questo che vende bene in Italia, così come anche in Europa. Quanto costa la 650 Xscape? Vi ricordo va sulle 7.500 euro, dipende poi quale versione. 7.190 con cerchi in lega, 7.490 con cerchi a raggi, 7.690 la Godwill Edition. Una Xscape più grossa, 800 oppure 1.200, potrebbe costare magari attorno, la butto lì, alle 11.000-12.000 euro, forse, e potrebbe essere molto interessante. Non penso che andrebbe a costare quanto costava la vecchia Granpasso, però magari un 14.000 euro potrebbe anche costare, però ovviamente non possiamo, insomma, azzeccarci adesso, perché della moto conosciamo veramente molto, molto poco. Però, insomma, Moto Morini sta facendo bene. La Xscape 650 al momento rientra alla nonna posizione nella classifica delle top 30 moto più vendute in Italia, da gennaio ad agosto 2022, che è veramente un successo pazzesco. È uscita recentemente anche la 6.500, io ho provato, e sto provando qua nel monitor dietro, la SCR e la Scrumber, prezzo 7.400 euro circa, e l'ho trovata molto interessante. Quindi, secondo me, sia la STR 6.500, la stradale, che la SCR Scrumber, potrebbero nei prossimi mesi vendere bene. Quindi, Moto Morini comunque in Italia sta venendo apprezzata molto, e sta riscuotendo un buon successo. Quindi, ci sta, insomma, andare magari su una categoria superiore. Magari, appunto, delle maxi enduro stradali, potrebbe rompere le scatole alle grosse case più blasonate. Anche perché, secondo me, a questo ECMA vedremo diverse novità, magari da parte di Honda, magari da parte della Kawasaki, Suzuki, KTM, quello che volete. BMW, però saranno tutte moto, magari crossover maxi o maxi enduro stradali. Da prezzi anche molto elevati, perché ormai le grosse case comunque sparano sempre alto con i vari prezzi. Quindi, capite, la concorrenza italiana, con Moto, diciamo, magari anche prodotte in Cina, possono effettivamente rosicare grosse fette di mercato alle grosse case blasonate. E magari potrebbe in futuro anche convincere le grosse case ad abbassare un po' i prezzi, perché ormai siamo arrivati veramente a dei livelli allucinanti, no? Comunque sia, tutto molto interessante, ragazzi. Vi terrò sicuramente aggiornati, non appena avremo delle informazioni magari un po' più precise, magari qualche bella foto spia, documenti d'omologazione magari che mostrano il motore, eccetera, eccetera. Prima di finire con il video, per intanto, vi dico che se vi interessa una enduro stradale media, che non costi molto, la Escape 650, secondo me è veramente un prodotto molto valido. Non ve lo dico perché la Moto Morini mi paga, o perché conosco qualcuno, anche se comunque conosco un paio che lavorano lì, però ragazzi, oggettivamente parlando, c'è la prova sul canale che ho fatto quest'anno, se non sbaglio, dura circa un'oretta, l'ho provata in pianura, in colline, in città, e mi è piaciuta veramente tanto per quanto va a costare la 650. Quindi se vi interessa una buona moto da viaggio, che possa andare anche in fuoristrada, che sia bella da vedere, con un bel equipaggiamento, marzocchi, forcella, sei rovesciati, il peta frenante Brembo, schermo TFT da 7 pollici, con modulo Bluetooth, ragazzi, la Escape, secondo me, è veramente un acquisto, assolutamente da prendere in considerazione, se non volete spendere di più, per andare su case magari più blasonate. Comunque, da questo video è tutto, fatemi sapere nei commenti, cosa ne pensate di questa possibile nuova Maxi Xscape 1000 o 1002, se potrebbe interessarvi, e se magari avete provato o comprato la 650, come vi state trovando pregi e difetti. Vedete un like se vi è piaciuto, iscrivetevi, non si cadete dubbi con lo Instagram, video nel background ufficiale, e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao! Ciao! Ciao!